Ladies and gentlemen benvenuti quanti in questo nuovissimo video. Oggi vi porto un bel videozzo su Fortnite dove ho fatto una bellissima vittoria in ranked real in solo dove ho conquistato tutti e 5 medaglioni mitici dei boss e il mio inventario era composto solo da armi mitiche. E vi ricordo ragazzi che se volete supportarmi nello shop di Fortnite vi basterà inserire il codice creatore CROATOMIST, potete creare anche una story su Instagram dove mi taggate che fate appunto una shop pazzata e io vi riposterò la vostra story. Inoltre ragazzi vi volevo ricordare che qualche giorno fa è uscita la mia mappa 1 contro 1 ranked in creativa su Fortnite quindi vi lascio qui il codice della mappa se la volete giocare per allenarvi, scaldarvi con i vostri amici e rancare. E in più ragazzi vi ricordo anche della mia seconda mappa che è una 2v2 box fight sempre con le ranked. Vi lascio qui anche il codice della mia seconda mappa, se le giocate mi raccomando taggatemi su Instagram che io vi guardo le vostre stories e ve le riposto. Ma detto ciò ragazzi ora però non perdiamoci in chiacchiere perché qua avete da godervi un gameplay veramente succulento quindi vi auguro una buona visione. Ehm... Ehm... sono api di me la prima della fa vedere così è ok vediamo come viene ma secondo me se ora le basate giusto perché la prima fa sboccare dai a a a a a a a Buongiorno. bro hai preso un cazzo mamma mia proprio l'hai degustato proprio da proprio proprio con gusto proprio con gusto zio grazie del pompa mitico no 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 Grazie a tutti Ragazzi con quanto di lei l'ho ucciso a questo Ma what the fuck Fortnite? Tutto ok? E' morto con 4 secondi di delay questo Questi perché ce l'hanno con me? Ragazzi state teamando? Buonasera Spero vada tutto bene ragazzi Spero di non avervi dato troppo fastidio all'interno della vostra capital rettale Grazie e arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Così ci ripensi 4 volte la prossima volta a fare tutto Ma questo come è entrato esattamente? Questa è la pizza come cura Questa è la pizza come cura? Vai a fare in c***o vai a fare in c***o vai Vai via Buonasera Buonasera Come stai? Un po' di mal di testa? Eh lo so Nella vita possono succedere questi momenti un po' tristi Ehm... 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 ok box win seconda win da mettere sul canale con 5 medaglioni 5 medaglioni pompa di griffin e scar mitico sinceramente è un gg qua lo vorrei onestamente l'altra volta abbiamo fatto 5 medaglioni tattico mitico e scar mitico questa volta 5 medaglioni scar mitico ma col pompa di griffin